Italia 1 siamo qui per una nobile missione nella clinica dove i dottori sono più strani dei pazienti ma su si vede che è un camionista ma la smetta ogni disturbo della personalità ha voluto il cane perché il cane? un labbro trova una soluzione che cosa posso fare? venga da me stasera perci è meglio di no dottor Lect la premiata ditta Siete matti Te le matti ultimo appuntamento domani sera le 20.40 su Italia 1